ciao sono alessia di alessia scrap and craft e casa organizzata se non vuoi perdere neanche uno dei miei video ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo ce ne sono spesso ne sto facendo molti e quindi seguimi ciao 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 ciao